La piscina di Buonabitacolo pronta a rinascere sabato prossimo l'inaugurazione alle 16 della nuova vita della piscina da anni nel degrado e purtroppo cornice anche di un grave fatto di cronaca, la morte, l'uccisione di Antonio Pascuzzo. Nei mesi scorsi è stata completata la procedura di affidamento della ditta Olimpia e una volta ultimati gli interventi di sistemazione l'impianto può riaprire i battenti, lo farà nel fine settimana. Sabato prossimo Buonabitacolo vedrà finalmente inaugurata e avviata l'attività della piscina comunale e sono tante le sensazioni e i pensieri che accompagnano questo importante atto che non si sarebbe potuto segnare senza l'impegno e le risorse di Giuseppe Garone e Francesca Petrosino. A loro va la mia personale gratitudine, l'immensa stima, grazie alla loro sconfinata volontà si è potuto risolvere questioni delicate e spinose davvero problematiche trasformandola in occasione di sviluppo e di fiducia verso il futuro. Così il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio ha annunciato l'evento e l'appuntamento di sabato.